Può partire, può partire. Grazie. Procediamo così informalmente? Sì, sì. Ok. Allora, questo è il Centro Ricerca e Semeio, ente riconosciuto per decreto ministeriale dal MIUR nel 1991, quindi è un organismo di ricerca. Questo è quello sulla gazzetta ufficiale e è stato già selezionato tra i progetti internazionali di scambio scientifico tra Italia e Stati Uniti. L'argomento è l'intelligenza artificiale. Io sono Massimo Buscema e sono direttore del Semeio e full professor adjoined alla University of Colorado, dipartimento di matematica e scienze statistiche. Quello che vedremo è rappresentato da questo brevissimo sommario. Vi è stato detto di focalizzare specialmente sulle applicazioni, per cui quello che vedremo senza una premessa teorica sembrerà abbastanza magico, però ve lo dico in anticipo. Quindi, l'intelligenza artificiale di cosa si occupa, poi applicazioni su immagini mediche, sulle lobbies, sulle strutture criminali, sulle frodi sanitarie, sui conti economici delle ASL, sulla previsione delle frane, sulla previsione dei titoli finanziari, sulle epidemie, sul terrorismo, sull'emergenza ambientale e i terremoti. Questo per fare un esempio di cose che abbiamo fatto e sappiamo fare. L'intelligenza artificiale è divisa in tre settori. Uno si occupa di simulare il cervello per capirlo meglio. Un secondo si occupa di ispirarsi al cervello per costruire meccanismi hardware più capaci del cervello. Il terzo si occupa di ispirarsi al funzionamento del cervello per capire le leggi con le quali si passa dalle comportamenti individuali ai comportamenti collettivi. Cioè, scoprire quelle informazioni che il cervello non vede. Per quest'ultimo approccio le parole chiave sono tre. I dati, che rappresentano un problema, perché senza dati non c'è rappresentazione del problema, in qualsiasi ambito della scienza. I sistemi artificiali ed attivi, che sono quelli che costruiamo noi, sono dei sistemi che si adattano ai dati e tentano di capire la logica dei dati senza avere alcuna informazione esterna sulla sorgente dei dati. Quindi sono cosiddetti data-driven, guidati semplicemente dai dati. E i protocolli di validazione. Cioè, una volta che i sistemi hanno visto i dati e hanno fornito una interpretazione di quei dati, bisogna capire in maniera oggettiva se hanno capito qualcosa di sensato o no. Quindi, noi abbiamo delle domande. Scusate l'inglese, ma ho collezionato dalle lezioni che faccio. Per cui, comunque, non è necessario... Ce la possiamo fare. Eh? Ce la possiamo fare. No, lo premettevo perché se non ha poi al Senato della Repubblica mi si dice parli in inglese. Argomento, domande, generazione dei dati, come premessa umana. Quindi, i dati, database, algoritmi e validazione sono la terna con la quale vediamo quello che abbiamo capito usando questi sistemi di intelligenza artificiale. Poi, interpretazione dei risultati, nuove domande e nuovi argomenti. Questo è il ciclo virtuoso che dovrebbe distinguere. Quindi, una matematica complessa che interagisce con i dati su computer per far venire fuori quelle che sono le relazioni interne dei dati. Cioè, non quelle che vediamo noi, ma quelle che i dati vedono tra di loro. Mi spiegherò meglio con gli esempi. L'obiettivo è vedere quello che risulta invisibile agli altri strumenti e alla mente umana. Quindi, non è emulare il cervello o simularlo, ma catturare e costruire dei meccanismi in grado di vedere ciò che sfugge al cervello. E quindi, in teoria, agire in maniera sinergica, poi, con il soggetto umano. E trovare le invarianti, che spiegano tutte le varietà che a noi ci sembrano casuali. Esistono diversi tipi di analisi. L'analisi esplorativa dei dati, cioè capire le informazioni nascoste dei dati senza nessun'altra premessa. L'analisi diagnostica, capire da dei dati se quei dati appartengono, quel soggetto appartiene a una classe A o B, buon pagatore, cattivo pagatore, oppure soggetto malato, soggetto sano. Predittiva. Capire in anticipo nel tempo dati delle informazioni, come si svilupperanno quelle informazioni l'attimo dopo, dove il delta può essere definito a priori. Simulazione. Questa è importantissima, perché è nuova. Avendo dei dati, non sapendo nulla di quei dati, poterli far apprendere al sistema, poi poter simulare degli scenari what if, che cosa accadrebbe se. Cioè, data questa situazione, se io adesso cambio questa variabile perché posso cambiarla, gli do questo valore, quest'altra gli do questo valore, tutte le altre variabili, come si aggiusteranno nel tempo, facendomi vedere gli effetti collaterali delle mie scelte. Questo è un ottimo sistema per simulare, a livello probabilistico ovviamente, delle decisioni prima di farle pagare alla realtà. In realtà. Quella prescrittiva, che è l'altra faccia di questa che ho descritto, cioè, ho una situazione rappresentata dai dati, sia adesso voglio che una certa variabile assuma certi valori, che valori devo dare alle altre variabili perché negoziando tra loro nel tempo naturalmente mi enfatizzino quella variabile, e si chiama prescrittiva. Un esempio, questa è una base di dati molto semplice, sono degli oggetti che possono comparire in delle stanze, in sei stanze diverse. Il sistema, in maniera molto semplice, vedendo soltanto questa tabella, produce un grafo pesato dove ogni oggetto è posto vicino agli oggetti con cui può comparire, compresi il tipo di stanze in verde. Questa sembra una cosa semplice, in realtà è complicatissima, riuscire a capire da una tabella del genere questa rappresentazione, vedete c'è il bagno qua sotto, ha ricostruito la cucina, c'è l'ufficio, la stanza da letto in verde in alto, eccetera. Questa è scoprire le relazioni nascoste che esistono tra i dati e che noi non riusciamo a vedere, perché la nostra capacità di vedere le relazioni non supera le quattro relazioni in parallelo del nostro cervello. Con gli altri metodi si va anche meno. Questo è un esempio di diagnostica, gli fa vedere dei numeri scritti a mano, digit, lui si fa una rappresentazione interna di quei numeri, vedete che numeri simili sono messi vicino in questa matrice, e poi li proietti in un grafo dove gli stessi numeri, senza in cieco, quindi senza che lui lo sappia, sono messi in maniera giusta. Quando vedete dei colori divergenti ogni tanto, significa che lì il sistema ha commesso qualche errore, cioè ha fatto diventare un 7 e un 1 o viceversa. Predittiva, anticipare nel tempo, questo è un esempio che potremo vedere se abbiamo tempo, è, data è tutta la base dati di USGS, dei terremoti nel mondo dal 78 ad oggi, è possibile con poche variabili approssimare la magnitudo di quei terremoti di diversa magnitudo che accadranno domani in ogni parte del mondo? Questo è un tipico esempio, l'ho messo perché è molto discusso, prima l'INGV diceva che non era possibile, gli americani ci stavano provando, i cinesi pure, adesso l'INGV ha detto è possibile, ma in questo ci siamo stati anche noi nell'INGV a favorire questa apertura. Questo è un esempio di analisi simulativa, questo è il traffico di droga a Londra, analizzato con molti dati, abbiamo collaborato a Scotty Yard con l'intelligence con un progetto dal 2003 al 2007 e qui vedete che noi, siccome la cocaina che era l'oggetto di interesse, non si trova facilmente negli arresti, se ne trova sempre un po' mista da altre droghe, il problema era come fare a massimizzare i sequestri nei dealer, cioè in quelli che la vendono di cocaina e il sistema ha fatto una simulazione e ci ha detto che sudamericani e persone dell'est anche se non vengono mai prese con la cocaina mentre la vendono perché non sono loro che la vendono, sono coinvolti in questo processo. Questa è un'analisi prescrittiva, questo è un fondo assicurativo, il fondo assicurativo dice voglio aumentare il numero dei miei assicurati. Bene, se aumenti il numero dei tuoi assicurati allora ovviamente aumenteranno i soggetti attivi e i beneficiari, ma il sistema dopo un po' di ragionamenti verso il ciclo 200 ci dice guarda se fai questo, se aumenti il numero dei beneficiari delle tue insicurazioni aumenterà anche il numero di rimborsi che dovrei fare tra i 1000 e i 5000 euro, il numero di bambini e figli del beneficiario che chiederanno rimborso, vedete questo? Il numero del conigi che chiederanno rimborso e aumenteranno anche significativamente il numero di ticket e il numero di richieste a biglietti di prevenzione in altre parole. Questo era completamente invisibile agli altri metodi, parlo di altri metodi come la PCA ed altri affini che sono usati normalmente nelle università italiane. Casi reali. Immagine medico. Rendere visibile quello che il radiologo non vede. Allora, invece di guardare l'immagine dal nostro punto di vista, questo sistema chiamato ACM già pubblicato, brevettato, eccetera, si mette dal punto di vista dei pixel e tenta di vedere come ogni pixel dell'immagine si vede all'interno delle altre e parlando i pixel tra di loro sviluppano una nuova immagine che dovrebbe rivelare informazioni nuove sull'immagine originale. Queste sono le pubblicazioni, basta che vedete che ci sono tutte su peer review, questi sono i brevetti internazionali che sono quattro brevetti, tre idee brevettuali, questo è un caso, immaginate che questa è una simulazione di raggi X, quella è una lesione e quella è la mammella. Se io le sovrappongo non vedete nulla, se io lo faccio analizzare al sistema, quella immagine, quella lì, io vedo la lesione. Altro esempio, questa è la fotografia del caro dell'orsa, non so se si vede bene, si vedono le sette stelle? Bene. Allora, dopo averla messa in questo sistema, ecco quello che vedo. Ora, o quelle sono stelle che io non vedevo ma c'erano, oppure sono scarabocchi. La nostra collaborazione con l'Istituto di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha fatto la validazione in cieco col planisfero e ha mostrato che tutti i puntini che vedete nella seconda immagine sono stelle, non c'è neanche un puntino della immagine di mezzo che non sia una stella. Casomai, nel planisfero c'è qualche puntino in più che lui non ha visto perché qui neanche c'era. Ora sono piccoli scarabocchi che bisogna decidere ed è complicatissimo se queste microvariazioni che qui ci sono e l'occhio non coglie sono informazione o sono rumore e lui è capace di capire quando sono delle forme. Questa è un'altra immagine da Hubble, vedete le due lune di Saturno ed ecco qui come lo vede lui. La stessa immagine messa sul sistema fa vedere tutte le stelle che ci sono dietro. Questo è raggi X al seno. Vedete c'è un tumore maligno, una massa maligna. Questa è come la vede l'edioologo. Questa stessa immagine messa in tre sistemi ACM ecco come appare. Come vedete la definizione è altissima, ci sono anche le polveri che si sono installate vicino al seno e guardate come la massa viene ben definita. Questo è invece un polmone, questa è una tomografia computerizzata, una TAC e questa è una TAC e vedete che c'è una lesione che sembrano due lesioni fatta alla biopsia è tumorale. Il sistema gli metto questa immagine e mi mostra dopo vari cicli questo tipo di immagine. Come vedete questa che vedete ci dice che la massa tumorale è una sola e che intorno è operabile, quello è l'intorno di operabilità, quello che vedete sono i vasi linfatici che i medici studiano fin dai primi anni ma non hanno mai l'avventura di vedere se non sapete che ci sono perché perché sono come il sangue ma ha bassissimo contenuto proteinico per cui è la GX è nero su nero. Questo è interessante, questo è un mezzo di contrasto, vedete questo è un fegato, ha un problema, col mezzo di contrasto si vede il tumore. Voi sapete che il mezzo di contrasto costa circa 250 euro a dose e ha effetti indesiderati su alcuni non pochi pazienti. È invasivo, va bene? Adesso mettiamo questa stessa immagine senza mezzo di contrasto nei nostri sistemi ACM e guardate qui sono due sistemi indipendenti tutti e due focalizzano molto bene il tumore. Questo è un glioma stesso problema l'originale dopo il mezzo di contrasto. Mettiamo l'originale senza mezzo di contrasto nei sistemi ed ecco che il glioma ci appare nella sua forma e definizione più naturale addirittura. Voi pensate che cosa significa poter ridurre il mezzo di contrasto applicando questi sistemi ottenendo anche di più o togliere in alcuni casi il mezzo di contrasto quando non si può o usare il mezzo di contrasto più questi sistemi per vederci ancora meglio. Questo è un esempio di cervello con sclerosi laterale amiotrofica. Guardate come il nostro sistema vede molte più lesioni di quelle che l'occhio vede nell'immagine grigia. Questa è una geografia sottrattiva una ricerca che stiamo finendo con il monzino col centro cardiologico il monzino e il problema è semplicissimo questa è un'istantanea durante l'angiografia con mezzo di contrasto si fa un'istantanea e risulta questa cosa qui dice va bene qui c'era una stenosi ed è stata aperta dal chirurgo. Così la vedono i sistemi matematici tradizionali quelli in uso attualmente cioè quelli che tentano di definire il contorno. Come la vede il nostro sistema? se volete vedere vi faccio vedere il filmato del sistema mentre vede questa immagine come la trasforma. Ecco noi adesso carichiamo l'immagine che è un software di ricerca nostro e voi vedrete l'immagine che abbiamo visto all'inizio. Ogni pixel diventa un agente che comunica con gli altri come se fossero dei neuroni mettendo appunto le connessioni. Man mano che in questo gossip questo pettegolezzo tra pixel loro si mettono d'accordo fanno comparire una nuova immagine che dovrebbe contenere delle informazioni che esistono ma che non si vedevano. Vedete? Si sta già evolvendo e guardate viene fuori questo è real time proprio. Ora se andate a vedere quello che abbiamo visto adesso da vicino vi rendete conto che il sistema mette in evidenza una stenosi che nell'immagine originaria non si vede e lui l'ha ricavata soltanto dall'immagine originaria. Quello è inutile dirvi che è stato verificato e validato sono stati pubblicati diversi articoli su riviste scientifiche peer review ad alto impact factor con decine di casi non dico centinaia decine di casi indipendenti nei quali verificare questo. Questo è un esempio per dare l'idea di come si rende visibile l'invisibile. Questo è un altro esempio questo è una piccola opacità una piccola opacità su un polmone ok? Questa può essere qualsiasi cosa il radiologo o il medico oncologo quando la vede gli dice vabbè non si capisce può essere niente torna tra un mese rifaccio la TAC e vedo se si è mossa noi crediamo invece che il sistema abbia già tutte le informazioni quindi non è una provisione del tempo quella che vedremo perché questo signore si è presentato invece dopo tre anni e la situazione era di questo tipo cioè si era sviluppato un tumore maligno aggressivo ed ecco il sistema che ha visto soltanto l'immagine di tre anni prima come ha ricostruito quello che c'era quello che c'era nell'immagine di tre anni prima l'informazione finale messa a confronto con quella di tre anni dopo vedete è molto informativa tant'è vero mettendole una sopra l'altra quasi coincidono che significa che ha predetto nel tempo no che ha visto nello spazio quello che era invisibile all'occhio perché il tumore prima di formare i vasi sanguigni forma il letto del fiume cioè forma i vasi linfatici una sorta di letto all'interno del quale una volta costituito costruisce i vasi sanguigni cambio argomento visto applicazioni faccio varietà il potere delle lobby allora questo è curioso perché lo facevamo nel 2006 e tirammo giù questi dati pensate dal bloc di Beppe Grillo voi non ne sapete niente noi sì era un bloc con tutte le informazioni che diceva ogni società quotata in borsa il numero di consiglieri che erano presenti la mappa del potere e diceva accidenti questo compare tante volte questo compare poco in realtà con tutto il rispetto questo non significava nulla compare poco compare molto vi faccio vedere questo è del 2006 queste sono 226 compagnie quotate in borsa in Italia nel 2006 ok? bene eccole qua tutte ci sono questo è il foglio Excel in cui c'è sulle righe vedete il nome dei consiglieri e poi uno se è presente nel consiglio di amministrazione zero se non c'è allora questa matrice è una matrice piena di zeri quindi inelaborabile con i mezzi tradizionali perché tutto ci cioè è come avere un numero di gradi di libertà talmente ampio che ci può vedere tutto ok? ma se io vedo che mediamente ogni consigliere è presente in due e mezzo consigli di amministrazione che politicamente può essere imbarazzante ma statisticamente significa poco significa nulla quello che compare di più è un certo consigliere che compare sei volte sei volte su 226 statisticamente è irrilevante è poco anche se politicamente può essere un problema allora ci siamo chiesti se analizziamo con i nostri strumenti riusciamo a vedere la mappa del potere reale se c'è cioè come la distribuzione dei vari consiglieri nei varie società può costituire una mappa di distribuzione del potere in grado di spiegarci molti fenomeni che sono successi dopo e c'è questa mappa attenzione non si tratta di scovare un complotto qui stiamo immaginando che ognuno fa complotti dall'inizio della storia cioè ognuno fa il suo piano ma tutti fanno un piano che è diverso l'uno dall'altro interagendo questi piani non vanno nel caos costituiscono un altro piano che si spontaneamente organizza e che nessuno dei competitor aveva immaginato e il primo che riesce a immaginare questo nuovo piano che si è auto-organizzato rischia di vincere abbiamo prima esaminato il problema usando la teoria dei modelli dei gradi di separazione della scuola di Boston dell'università di Boston e come vedete il grafo benché aperto i punti sono le società i link sono quando hanno almeno un consigliere in comune non mostra alcuna struttura è caotico sembra che non ci sia nulla sotto anche facendo un passa alto cioè prendo soltanto crea un legame soltanto tra quelle società che hanno più di un consigliere due da due in poi vedo una situazione feudale che potrebbe ingannarmi dicendo un po' la situazione italiana ognuno ha fatto il suo gruppetto adesso applico questo modello nuovo del semelio che si chiama auto-contracting map che è praticamente un modello tensoriale che scopre le relazioni nascoste e mi viene fuori questo disegno questo disegno è interessante uno perché è strutturato due perché c'è un diamante esecutivo al centro e mi divide tutte le società in sei aree di influenza se vado al 2006 se vado al diamante centrale guardate chi sono il comitato esecutivo non il comitato esecutivo è quello che rappresenta non quello che decide necessariamente gruppo editoriale l'espresso che è il centro a quel tempo interpump group banca nazionale del lavoro vedete che non ha figli vedete che carraro e banca nazionale del lavoro non hanno diramazioni lui non lo sa che sono delle finanziarie l'ha dedotto dalle relazioni che esistono tra i consiglieri autogrill luxottica marzotta e valentino andiamo a vedere il ramo di dominio chiamiamolo così del gruppo editoriale l'espresso questo è interessante perché vedete qui c'è il gruppo editoriale l'espresso qui c'avete tutti gli uffici di De Benedetti a quel tempo ma qui c'è una cosa interessante perché vi ricordate che all'inizio del 2006 si parlava di un possibile accordo tra Berlusconi e De Benedetti se andate un attimo a seguire qui da Fastweb che è una diretta conseguenza dell'influenza del gruppo l'espresso si arriva facilmente a Mediolanum e poi a Safilo e poi a Mediaset come dire nelle informazioni che c'erano distribuendosi i consiglieri l'accordo tra De Benedetti e Berlusconi qui già c'era ma non solo se andate da questa parte cioè salite Fastweb tramite questa banca che è Fideuram credo perché non leggo bene vedete che qui c'è il gruppo Caltagirone tutto il gruppo Caltagirone Cimentir Caltagirone Editore eccetera qui c'è il monte dei Paschi di Siena e alla fine chi è la foglia che viene eletta Unipol e vi ricordate che nel 2006 si parlava abbiamo una banca qui ci sta dicendo uno che era già chiaro in quella distribuzione dei consiglieri due che dietro non c'era soltanto un partito ma anche un altro perché tutte queste forze Caltagirone Unipol rappresentano anche forze politiche come voi sapete meglio di me qui si potrebbe andare avanti ma la salto per darvi un'idea la cosa interessante potrei averla ma non ce l'ho adesso qui se voi siete in grado di darmi i dati perché io me li sono dovuti ricavare dal sito uno alla volta a quel tempo con i nostri ricercatori se mi date i dati gli stessi dati la facciamo in un giorno questa cosa fu pubblicata è stata pubblicata su Springer cioè non è che è rimasta nel silenzio pubblicata su una rivista scientifica capitolo di un libro una copia mandata anche ai vostri padri nonni a quel tempo ok la stessa struttura la stessa algoritmo l'abbiamo applicata in una indagine reale di cui non posso fornire ulteriori indicazioni per l'analisi dei gang criminali e questo è il testo che uscirà adesso di Springer di questo modello questo applicato in campo medico sull'autismo sul ritardo di crescita sul DNA il problema è questo in questo caso ci sono 62 soggetti che sono stati attenzionati da qualcuno cioè la ripulizia nostra ciascun soggetto è definito da una serie di tratti banali che non significano niente stanno lì nel dataset da anni ma non producono nessun tipo di effetto durante le indagini però si è prodotto un fatto nuovo si è capito durante le indagini non nei dati che questi 62 soggetti erano divisi in due bande quella dei giovani e quella dei vecchi che non erano in conflitto tra di loro semi conflitto generazionale sul potere ma non ecco i soggetti i soggetti giovani sono blu i soggetti vecchi sono rossi poi il soggetto sian è quello che quando è stata fatta l'analisi è passato da una banda all'altra ecco i tratti banali con cui ogni soggetto era definito vedete parentela contatti amicizie relazioni del lavoro documenti nei quali compariva proprietà di auto documenti amministrativi soscrizioni telefoniche cose banali che si registrano normalmente in questi casi era un totale però di 778 variabili 62 soggetti abbiamo provato ad applicare la solita teoria dei gradi di separazione per vedere abbiamo già che le indagini ci hanno diviso i soggetti in due gruppi vediamo se usando questi dati banali spontaneamente l'analisi ce li divide qui abbiamo una sorta di verifica in cieco non è possibile farlo con l'analisi tradizionale guardate vedete i due colori vengono confusi molti sono non si sa chi legarli molti soggetti sono sparsi diversi tipi di analisi abbiamo applicato lo stesso metodo che abbiamo applicato alle società in borsa ed è venuto fuori questo quello che state vedendo questa è l'unica cosa che vi mostro che non è pubblicata ma come dire mi fa da testimone perché le indagini sono state fatte in corso un generale dei carabinieri che al momento opportuno posso citare in maniera riservata che fa da testimone perché non è possibile andare oltre ma questa è la mappa che ha prodotto il sistema ha diviso perfettamente le due bande a questo punto abbiamo detto beh siccome l'ha divise bene a questo punto dici qual è la rilevanza di ognuno di questi componenti chi è il capobanda chi sono quelli più importanti le forze dell'ordine italiano hanno detto noi abbiamo già arrestato il capobanda è il numero 80 lo vedete in basso giallo lo vedete questo qui allora abbiamo detto andiamo a vedere quanto conta ognuno secondo questa metodica è possibile anche facendo l'integrale inverso in qualche modo e guardate quello in Sian è quello togliendo il quale la rete collassa del 30% e quindi più la rete è semplice più si taglia meglio diciamo così poi gli altri due più importanti sono quelli di colore giallo che fanno collassare ognuno indipendentemente dall'altro del 21% la rete quelli rossi sono più o meno indifferenti se vedete meno 0-25% di influenza e guardate che il numero 80 è tra i rossi per cui noi dicevamo guardate secondo la nostra analisi questo numero 80 non è un capo o se è un capo non conta niente settimana successiva incontro nello stesso posto dopo aver verificato delle indagini il risultato sì è vero l'80 era un capo vecchio in pensione costruito per noi perché lo pigliassimo il vero capo è il 2513 colore Sian che è l'ex autista del vecchio capo tra l'altro e è stata attenzionata e l'abbiamo preso non avevamo informazioni su di lui i due gialli li abbiamo passati a un'altra forza di polizia perché non eravamo noi come competenza perché sono risultati uno il capo degli appalti pubblici della camorra insediata negli appalti pubblici e l'altro era rappresentante di distribuzione della cocaina presso i colombiani in Campania visto il risultato queste sono cose che sono avute dopo ci è stato chiesto allora prendete tutti i soggetti che avete nel database che vi abbiamo dato e diteci quali di loro appartengono un'altra forza